Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale, ce l'abbiamo fatta anche oggi con il video. Il VR Chessmasters 2023 ha chiuso l'ultimo turno nel modo più spettacolare possibile, senza un vincitore ma con ben tre giocatori appagliati al primo posto. Si tratta di Aronian e Gukesh che hanno deciso di accordarsi su una veloce patta nella loro partita, ai quali si aggiunge il russo Nepomnishi che è riuscito a vincere di nero un lungo finale contro il giovanissimo tesco Kajmer. Si va dunque agli spareggi, si giocherà un girone a tre a doppio turno, quindi i giocatori si incontreranno due volte gli uni con gli altri, una volta di bianco ed una di nero, con partite a rapid veloce da 10 minuti più 2 secondi di inchiamento per mossa. Stiamo per guardare insieme una delle partite decisive, quella che mi è piaciuta di più, ma prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare Napal, Alessio e Ipez, tre nuovi abbonati alle mie lezioni, una libreria di video che cresce mese dopo mese e che trovate qui sul canale a soli 2,99€ al mese. E poi un saluto particolare a Martinetto che mi ha donato 10€ con il Super Tank di YouTube. Grazie davvero Martinetto. Passiamo alla partita di oggi, Nepomnesci di bianco contro Aronian di nero, un Aronian che ha fatto una scelta strategica molto complessa quando all'ultimo turno, come dicevamo prima, di bianco ha deciso di pattare subito contro Gukesh e giocarsi poi tutto agli eventuali spareggi rapid. Vediamo se avrà fatto bene. E allora non dimenticate il like, ma rimanete fino in fondo perché ho trovato una foto molto simpatica che poi vi farò vedere alla fine del video. Partiamo! Ian Nepomnesci di bianco apre la partita con C4, quindi l'apertura inglese. Aronian risponde con cavallo in F6, cavallo in C3 e adesso E5. Allora cavallo in F3 sviluppa e attacca il pedone, arriva cavallo in C6, questa è la famosissima variante dei quattro cavalli. Ora la continuazione principale del bianco è ampiamente più giocata, è questa G3, ma visto che in molte linee al nero piace sviluppare questo alfiere camposcuro in B4, allora Nepomnesci in questa rapid esce subito da linee principali, gioca immediatamente a 3. E allora arriva la spinta al centro in D5, C per D5, il cavallo ricattura. Ho notato, è un po' strano questo fatto, se cavallo per cavallo non si può naturalmente riprendere col pedone, e se no il nero gli cambia le donne e gli rimane il re al centro. E allora, per questo motivo, spesso il bianco gioca a donna in C2, ma adesso su cavallo per cavallo, ugualmente, si preferisce riprendere col pedone B. Arriva alfiere in D6, sono entrambe buone delle continuazioni, ma ho notato la preferenza di questi super grandi maestri a riprendere col pedone B. Alfiere in D6, arriviamo ad un momento interessante di questa apertura. Anche se la continuazione più giocata rimane G3, si può pensare, come ha fatto Nepo in questa partita, di sviluppare l'alfiere non in fianchetto, e quindi giocare E3. Oltretutto si minaccia la spinta centrale in D4. Allora, arrocco corto per il nero, arriva proprio di 4, sono rimaste una trentina di partite in database, tra queste una vittoria di bianco di Kramnik contro Kariakin del 2017. Piccolo inciso, noi di Kramnik abbiamo parlato poco, ma il mio consiglio è questo, quando in una linea di apertura che volete studiare, trovate una partita di Kramnik, una vittoria di Kramnik, non fatevela scappare, perché è uno dei giocatori più puliti, più logici nel suo gioco della storia degli scacchi. D'altronde, è l'uomo che ha tolto il titolo di campione del mondo a Gary Kasparov. Quindi, andiamo avanti. Dopo D4 arriva alfiere in G4, si minaccia alfiere per cavallo di sciupare la struttura pedonale, e per questo motivo, per chi vuole arroccare corto, alfiere in E2 diventa la mossa principale. Invece è interessante questo alfiere in D3, che minaccia anche la cattura con scacco, ma alfiere per cavallo arriva lo stesso. Ora, attenzione, non si è fatto intimorire Aronian, naturalmente ora il bianco dovrà arroccare lungo, ma non si può esimersi da ricatturare subito in F3, perché se alfiere per pedone in H7 con scacco, il re si sposta, il bianco cattura, il nero gioca G6, sì, è vero, si può sacrificare l'alfiere, ma poi, con la donna e la torre, e anche gli altri pezzi, il bianco è perduto, non ce la fa portare l'attacco da matto. Ritorniamo indietro. E allora, dopo alfiere per cavallo, il pedone G ricattura in F3, donna in H4 connette le torri. La casa F7 adesso è protetta due volte. E allora, Nepo gioca alfiere in B2, per l'arrocco lungo, e arriva a G6. In una sola mossa profilattica, Aronian ha chiuso la diagonale alla batteria donna alfiere, ha chiuso anche spazio ad una possibile torre, che sicuramente arriverà sulla colonna semiaperta, per attaccare l'arrocco del nero. Pensate, in questa posizione, come vedete da questa freccia, il computer percepisce il re bianco più al sicuro in E2 che dopo arrocco lungo. Andiamo a vedere come è mai. Perché dopo arrocco lungo giocata subito, e non giocata da Nepo in questa partita, il nero può tranquillamente giocare torre in A, che va in B8, che supporterà prima la spinta B5, ma dopo, supportata da tre pezzi, anche la spinta B4, con grande attacco sul re bianco. E allora, in questa posizione non è facile, veramente il re in E2 è l'idea migliore, arriva a D5. Ma questa D5 giocata da Nepo, rende il nero preferibile, il cavallo sotto attacco si porta in A5, arriva a C4. E allora B6, a controllare questa casa C5, arrocco lungo per il bianco, cavallo in B7, in C5. Aronian ci porterà il cavallo. Allora, torre in G1, cavallo in C5, attacca l'alfiere, meglio non perderlo, e quindi alfiere in F1. E ora, fermiamoci un secondo, attenzione, cosa deve fare il nero? Di solito, quando i due re sono arroccati sul lato opposto della scacchiera, non bisogna perdere tempo a giocare sul proprio lato, bisogna giocare in attacco sul lato dove c'è il re avversario. Ma questo è un caso un po' differente, e Aronian mantiene la concentrazione, perché noi ci dobbiamo chiedere cosa farà il bianco alla prossima mossa. Sicuramente torre in G4, che cosa fa? Scaccia la donna, e quindi mette in moto i pedoni, che si arriva subito al punto di contatto. E allora Aronian gioca giustamente a F5, tiene tutto bloccato, e Nebo costretto a giocare torre in G3. Sono tornato indietro. Torre in G3. Allora, torre in A che va in E8, come dicevamo, migliore torre in B8. La seconda torre viene raddoppiata sulla colonna G. Si può catturare il pedone, ma ricordiamoci che queste sono partite rapide a 10 minuti. Non si fida, non vuole farsi aprire anche la colonna H. E quindi Aronian gioca a torre in F7. Re in B1, Re in F8, si toglie dalla colonna delle torri, arriva a torre in H3. Supportata dall'alfiere, attacca la donna e la scaccia. E allora, donna in F6, alfiere in E2. Re in E7, alfiere in D1, Re in D8. Guardate, il Re di Aronian, come è sgusciato via in un attimo. Qui si era preparato il grande attacco sul lato di Re, ma il Re non c'è più, è passato sul lato di Donna. E allora, donna in E2. Donna in E7, cosa fa? Inizia insieme all'alfiere a guardare pericolosamente alla casa A3, quindi al lato di Donna. Alfiere in C2, Re in C8. Re in A2, seconda protezione di A3, Donna in D7. Attenzione alla spinta F4, perché la donna attaccherebbe la torre sospesa, e allora la torre si riporta in G3, ma F4 arriva lo stesso. Pedone incatturabile, perché guardate che succede. Se il pedone viene catturato, il bianco può abbandonare, il pedone ricattura, attacco di scoperta sulla donna che si deve spostare, si perde la torre, quindi non si può catturare. Dopo F4, quindi torre sotto attacco, arriva torre in G4, e arriva anche E4. Attenzione adesso, attenzione adesso, che il nero minaccia di catturare, e poi di ricatturare, smantellando il centro. Allora, è giusta E per F4 di Nepo, e qui Aronian continua con E per F3. doppio attacco sulla donna, ma la donna naturalmente si sposta, riprendendo il pedone, c'era molto meglio che si poteva fare, ma naturalmente il tempo stringe un po'. Guardate che bella idea in questa posizione. Raddoppio, scusatemi, dopo E per F4, raddoppio delle torri sulla colonna E, e se F per E4 arriva cavallo per pedone, e qui naturalmente non si prende di cavallo, ma qui le torri la fanno da padrona, e oltretutto, scusate, o si cambia l'alfiere sul cavallo, ma poi le torri veramente la fanno da padrona, ed è un disastro, si perde anche il pedone in F4, ma in ogni caso, questa donna si deve spostare, perché sennò arriva lo scacco, e l'attacco di scoperta vince la donna, e allora, a meno di non voler perdere l'alfiere, arriva donna in F3, ma guardate bellissimo, si può riprendere il pedone con il cavallo, un cavallo che oltretutto fa la minaccia sulla torre, un cavallo in presa, che però non si può catturare, perché se la donna cattura, arriva a torre in E2, si riprende il pezzo con un'attività micidiale. Ritorniamo a noi, e invece, Nepo sempre in partita, ricatturando le donne in F3, Re in B7, guardate, non si sa mai, toglie dalla scacchiera, quella brutta geometria di cui parliamo spesso, donna di fronte a Re, su una linea di attacco aperta, in questo caso, alfiere in F5, guardate che proprio, F5, ce lo spinge subito il bianco, allora, alfiere in E5, D6, scacco di scoperta, arriva C6, però, Nepo, ha il pedone passato, allora, intanto, alfiere per alfiere in E5, la torre ricattura, ci sono svariate minacce, la minaccia però da evitare, è che il nero, gli catturi, il pedone passato, e allora giustamente, Nepo gioca a torre in D1, che lo salva, G per F5, attacca la torre, e siamo al momento critico, di questo spareggio, perché la torre sotto attacco, si deve spostare, e dov'è che va messa? viene subito in mente, sia torre in G8, guardate che, a controllare l'ottava traversa, a guardare case intorno al re, ma anche torre in F4, ecco, bisognerebbe giocare torre in F4, più sicura, ma anche più precisa in questa posizione, e invece Nepo gioca torre in G8, e noi siamo arrivati al nostro quizzone, perché c'è una mossa multifunzione, fortissima, a disposizione del nero, e allora, mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. Ritorniamo a noi, queste sono le mosse, che mi gasano, non c'è nessun tatticismo, ma guardate che bella, donna in E6, giocata da Aronian, guardate quante cose fa, attacca il pedone, quindi minaccia di catturare in C4 con scacco, a raggi X, attacca la torre, sospesa in G8, si toglie da di fronte al pedone, perché non può essere la donna, il pezzo più forte, il bloccatore del pedone, ci piazzerà la torre, intanto si è formata la batteria donna-torre, per l'entrata minacciosa, terribile, in seconda traversa. La posizione è diventata disastrosa per il bianco. E allora donna in C3 a proteggere il pedone, torre in D7, attenzione, sembra che si possa catturare subito questa torre, ma in realtà è un torre per torre, quindi sì, si potrà fare, ma al momento giusto. Allora re in B1, cavallo in E4, attacca la donna, questa è anche un'altra bella mossa, perché la donna che sta facendo non può lasciare questa diagonale, perché sta tatticamente difendendo la sua torre e minacciando quella del nero. E allora cambia alfiere su cavallo, il pedone ricattura, donna in D4, salva di nuovo il pedone passato. Ma in questa posizione Aronian capisce che è il momento di cambiare le torri. Allora donna per torre in G8, donna che cattura la torre in E5, donna che cattura in C4, il nero ha guadagnato un pedone e che cosa minaccia? Minaccia donna in B3 con scacco che vince anche un altro pedone. E allora è costretto a giocare donna in G3, Nepo, che mantiene la protezione del pedone passato, ma protegge anche il pedone in A3 e arriva donna in E6. Re in B2 a proteggere il pedone, libera dal compito difensivo la donna, arriva C5. Donna in F4, torre in F7, attacca la donna incredibilmente. Seppur questa sia una mossa fastidiosissima, dopo 43 mosse in una partita rapida, attacca la donna incredibilmente, il nero ha la possibilità, in qualche maniera, di rimanere in partita. come non è donna per torre, che a prima vista sembra giocabile, guardate che succede. Donna per torre, la donna ricattura, arriva D7, sembra impossibile fermarlo, ma non è così? perché c'è uno scacco, donna in F6 con scacco, e poi la donna si piazza in D8, e vincerà il pedone con il re, andando a semplificare in un finale vinto di pedoni. E qual è allora questa possibilità? Lasciare la donna impresa giocare D7. Ora, se torre per donna, naturalmente, guardate bello, la promozione non sarà donna, ma sarà cavallo, con scacco, che si riprende la donna, il re non può portarsi in C7, si deve pure portare sul bordo, se no, anche la cattura di donna arriva con scacco, e il bianco rimane con due pezzi contro zero, allora ci vorrà re in A6, cavallo per donna, torre che cattura in F2 con scacco, e a gioco corretto, la partita finirà in parità. E che rende scherzando, il bianco è rimasto con due pezzi contro uno, naturalmente i pedoni fanno la differenza, ma dopo D7, non funziona neanche torre per pedone in D7, perché c'è torre per torre con scacco, ma questa è l'idea più corretta del nero, la donna ricattura, il bianco si riprende un pedone in E4 con scacco, re in C7, e per il computer, seppure il nero sia l'unico colore a poter vincere questo finale, grazie al pedone di vantaggio, e al fatto che il suo passato sia connesso, però un bianco che gioca in maniera perfetta, può pensare di portare a casa la patta. Ritorniamo a noi, e invece dopo torre in F7, Nepo sposta la donna sicuramente anche per problemi di tempo, ma questa è una mossa passiva, pensate a quanto sarebbe forte in questa posizione, torre in F3, quindi a guardare anche questa casa B3, sarebbe probabilmente l'idea decisiva, e invece arriva re in C6, come dicevo torre in F3 sarebbe stata micidiale, re in B1, torre in D7, Aronian è concentrato, guardate, vuole eliminare a tutti i costi questo pedone passato, allora donna in F4 lo protegge, se non altro si vuole rifare poi sul pedone in E4, ma togliendosi dalla terza traversa, arriva donna in B3 con scacco, che chiude la partita, Nepo abbandona. Giochiamo qualche mossa, come mai abbandona? Intanto bisogna salvare la torre, e allora bisognerà che il bianco giochi re in C1, ma arriva la cattura del pedone in A3 con scacco, e quando il re si è rispostato in B1 con due pedoni di vantaggio, si gioca la bellissima donna in F3, attacca la donna, attacca la torre sospeso, porta al cambio donne, ma qui si vince anche un altro pedone, in questo caso il bianco giocherà torre in D3, torre per pedone, torre per pedone, è meno 9, perché il nero ha due pedoni di vantaggio. E quindi Aronian, pensate, in questi spareggi ha fatto 4 su 4, ha vinto tutte e 4 le partite, non ha lasciato scampo né a Nepo né a Gukes, sia di bianco che di nero, e diventa il primo vincitore di questo stupendo, ricco VR Chess Masters, che si gioca in Germania. Vi lascio la classifica finale, e adesso però vi devo far vedere quella foto simpatica che ho trovato, Aronian aveva fatto un grosso azzardo, e a non sfruttare di giocare di bianco contro Gukes, e di portare tutto agli spareggi, ma ha veramente avuto ragione lui, e io me lo immagino, lasciare la sede di gioco, come in questa foto. Grazie tante per l'ascolto, buona domenica a tutti, e noi ci vediamo martedì con un nuovo video. A presto! Grazie a tutti!